eccoci qua finalmente una nuova puntetta con mente di campionetta io sono quasi isolato perché non ci sono i cacachezzi non sono no ma che manco la juventus no 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 un bel parma mo vediamo forse il parma ma mo la settimana prossima andiamo a parlare col parma ti rilasciava ciao 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 ah edri così come se fosse a casa tua e certo che ti riconosco son de santis ha la frutificante della mitica longobarda e grazie a te io non lavoro più vabbè insomma è che buona bene il campionetto è finito con la longobarda non hai trovato nessuna squadra serie A serie B niente ma proprio questo è il punto io l'ho trovata delle squadre juventus torino parma adalanta niente non mi vuole nessuno tutti quanti quando vanno a legge il curriculum chi ha giocato coccanà niente non hai trovato niente si arriva dei perdenti poi ci vado allenamenti senza senso ah questo dicono io ho fatto un'intervista eh io gli ho dico mister ho parlato me ne ho accantato con tutti ah è sicuro che è colpa mia non è colpa vostra che invece non avete giocato no la colpa era tua mister io l'ho detto davanti a tutti lo dico la che fa oggi la colpa sono dei suoi allenamenti di come ci faceva schierare in campo di quello che ci faceva fare nei ritiri che facciamolo nei ritiri poi ci faceva fare nei ritiri che facevo Spalletti fa venire le monti Marcini fa venire le monti e noi sempre da soli nel ritiro prima delle grandi occasioni e le moglie non venivano mai e le e e ma perchè tu sei sposetto no e chi è su ti faceva venire io ti devo fare ci ruffiero che ti devo trovare la donna ma non è su di me cosa anche gli altri burrani Thompson poveraccio quello straniero è venuto qua non gli ha fatto mai venire ma perchè Thompson è sposetto sono affrocio e allora ti devo fare venire io lo mandare il ragazzo guardate che io tutto mi potete dire a me ma su quelle cose certe cose io sono molto all'antica perchè mi piace eeeh guardate la realtà mister lo sa qual è il problema perchè a lei lo voglio troppo bene eh è proprio di questo che volevo parlare eh che fotorelle che ho visto sul giornale eh un rosso canale con la sinte e stas che voglio per fare ma se non lo vuoi fare ma se non gli lo sa se non lo sa saperte un secondo mi torna per te non sfruttare qua che gli faccia la il... massaggio eh ma questa camicia qua Ti piace? Ti piace quella? No, non è più brutta, mi la potevano dare, ma andai a presa. Chi andrà? È brutta. È brutta. Mi sta male. È uno schifo. Quando siedono canà, tutti... E niente, ma chi andrà? Queste camicie me l'ha dato... Così? Molto in polso! Così ti pare. Mi posso andare avanti col commento? E va, va avanti, fa quello che ti pare. Ma vaffanculo, tu è tutto lungo perda.